ma madonna scandaloso toppi grazie son fermo io sei scarso guarda ma ti sta penetrando la mia visuale non è un hotel questa casa vai a lavorare ma non siamo neanche sposati vai via vai a lavorare vada perché bertano siete sposati e chi è che non vuole sposarsi qua ma ogni volta che metto le shaders è tipo un altro gioco e non è colpa mia e lo so asper ma tu sei nico tu sei nico nico nella mia live io pensavo che era luca ma io non l'ho vista perso una spada di diamante ma come oddio vabbè ragazzi non c'ho parole aspetta aspetta dove cazzo è finita raga quando è che l'ho buttata su in casa ok ho trovata madonna ho perso 10 anni di vita la spada in diamante no 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 ho visto le redi della blue whale challenge qua no però i miei livelli ok eccola qua facciamo così scusami sto verso cosa è successo mi sono caccato sotto ecco che è successo mi sono veramente caccato sotto te lo giuro su dio no tu non hai la minima idea è abbastanza lungo lo vuoi più lungo così va bene così corsi così lunghezza è giù e va bene è bello nero oltre tutto quindi sì ma è l'utilizzo che se ne fa non è la lunghezza secondo me ah ma allora ne dovremmo fare uno più grosso sì sì eh sì anzi potrebbe piacere di più effettivamente un tipo un 4x4 proprio un eh signori buonasera buonasera dite dite ma voi si dica sì vi abbiamo portato un piccolo caduto con il vostro sforzo della una lei ma se mi organizzano a feste contributo fa feste sai una cosa spontanea non è un problema perché stiamo sfogliere lo schifo siamo figure loss che faccia male alle mosche maschera la loni tu mi mostri ancora ma ce l'oceano lì figa Adesso metto un po' di labels In giro per la base così sappiamo Cosa c'è Un po' di Di cartelli che segnano Cosa e cose Ah così poi quando vengono a raidarci Senza dove prendere la roba bravo Giusto esatto Allora Leo cosa c'è anche con questo albero Quindi Io direi di usarlo come piattaforma Di passaggio Lo allungo Facciamo di qualche blocco in alto E qua ci facciamo una piattaforma di passaggio Poi ci servirebbe anche Di per sé Una piattaforma magazzino Dove mettere tutte le ceste Era meglio il legno No come era meglio il legno Stato andando contro il giudizio di sale Cioè non è Filincia No 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 peggio Solo se lo dice Nico Te la sei rubata tu Non c'ho niente Ma figurati Non so mai come sono fatti Ho perso una spada di diamante Ma come Oddio Vabbè ragazzi Non c'ho parole Aspetta aspetta Dove cazzo è finita Raga quando è che l'ho buttata Su in casa Ok Trovata Madonna ho perso 10 anni di vita Spada in diamante No 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 Ahahahahha